Ha passato l'esame di qualifica con il 110 Elode. Stiamo parlando di una ragazza della Bangladesh di 17 anni, Mahia Abedinrake, che frequenta l'istituto ceccato di Montecchio Maggiore. Il servizio di Luisa Nicoli. Si chiama Mahia Abedinrake, 17 anni, originaria del Bangladesh, la studentessa del ceccato di Montecchio Maggiore che ha rappresentato l'istituto al Quirinale all'apertura dell'anno scolastico. Chiamata dal presidente napolitano su segnalazione dell'ufficio per la coesione sociale per aver ottenuto 110 Elode all'esame a conclusione del corso professionale triennale che ora completerà con il biennio. Una soddisfazione per la scuola. Era partita praticamente da zero con l'italiano, ricorda la dirigente scolastica Antonella Sperotto, ma soprattutto per Mahia che sogna l'università, ingegneria e informatica e per la sua famiglia che ha dovuto sostenere non pochi sacrifici per farla studiare. Abbiamo dei problemi economici, quindi loro per pagarmi da studiare hanno dovuto fare anche loro dei sacrifici. È stato bello vedere, è stato proprio bello, hanno stati contenti, anche io ero contenta di vederli così felici. Sono riuscita a farli felici, erano così, di solito sono sempre così stanchi. È stato bello vedere i ripagati del loro sacrificio.